Mi piace Puglia, è proprio un altro mondo quasi. Siamo andati a fare un cazzo nei trulli e allora dopo di che sono andato a mangiare. È stata dura, capo di cazzo ho mangiato bene. Non dà delle cose che apportare, esagerato molto. Abbiamo mangiato senti i pasti, pasta pesanti, ed il secondo due agnelli sopra tre pesci. Lo spaghettio saura. Poi hanno uscito una teglia con una sorta di contorno, un po' di verdura. La facazza. La facazza è quella buona, è il 26, panini, lard e seppie. Le paparit. Due peperoni con la cicoria. Di cazzo di panzerò ci stavano. Madonna, diciamo esagerato con le cosette fritte. Stando il formaggio. Marescia. I formaggi. Il formaggio è una cosa completamente da pazzi. Poi non ho potuto neanche prendere il champagne. Ho lasciato solo un bezzetto di crostati che io poi insomma c'ho un po' di borsite. E la mattina mi sono alzato anche abbastanza disidrato. Madonna, mi sono preso il bica. Poverito Nicolo, ha fatto una brutta fila. Zobbe sì, grazie a questo io penso che non vado più in salento.